o allora la moderazione uno strumento non ci interessa a qua siamo già tutti attivi e quindi buonasera riccardo e buona terra massimiliano allora io ho fatto la taratura con il software della webcam prima di iniziare la diretta quindi ditemi se funziona bene o se fa di nuovo schifo se gracchia se non gracchia se si sente male vediamo un po cosa ne viene fuori questa volta tanto il muro arancione è venuto benissimo in webcam dal vivo di vi devo dire che terribile però è venuto decentemente dai ok vediamo un po come va come evolve il tutto luigi buonasera datemi solo dei feedback se si sente abbastanza bene o se gracchia peppe buonasera peppe buonasera roberto buonasera max buonasera buonasera a tutti luciano buonasera perfetto molto bene grazie per me audio che buonasera tutto ok si sente bene sente bene ok molto bene molto bene quindi questo software della logite che è servito a qualcosa e va bene così allora mettiamo via voi non vedete il casino che c'è qua sulla scrivania e meno male questo non serve questo va qua un bel bordello allora micchi roberto francesco di nuovo peppe grazie luca luigi riccardo stefano e mario ci siamo tutti molto bene molto bene benvenuti dunque tema della diretta niente di particolare se non gli ultimi due video che ho caricato dell'officina ho ricevuto un sacco di commenti non molti pubblici ma tanti privati magari con chi sono un po più in confidenza su whatsapp e ho scoperto che comunque questa nuova playlist di video che svolgerò nella mia sala giochi ha fatto piacere anche a chi non è assolutamente appassionato di auto perché addirittura oggi è venuto un cliente in negozio che mi ha detto ma si fai bene a fare non è la nostra portata e non ci interessa diventano dei video non piacevoli da guardare almeno così ogni tanto uno stacca vede un video diverso e impara magari qualcosa di cui non ha mai sentito parlare quindi mi hanno detto ci sta e io ho detto va bene mi ha scritto qualcuno in privato gente appassionata di auto oppure gente che non gliene può fregare di meno che l'auto è giustamente solo un mezzo per spostarsi da un punto a un punto b che non riesce bene a capire che cosa sto facendo e perché ho messo su tutto stambaradam ma va bene anche quello quindi chiaro un sacco di varietà pubblico ho scoperto che il mio cioè scoperto il mio pubblico è molto vasto ma è un po così per tutti suppongo quindi va bene va bene dai andiamo avanti ogni tanto esce qualche click mi dispiace non so quale click ti dispiace luigi riccardo audio che stefano feltri buonasera mario buonasera audio film buonasera c'è anche io solo ragazzi dobbiamo annunciare che dunque ci siamo parlati oggi abbiamo fissato un'ipotetica data ma non me la ricordo aspettate 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 probabilmente sabato prossimo adesso poi farò un post l'annuncio e anche la premiere magari probabilmente sabato prossimo facciamo una diretta per farvi vedere il camper victronizzato tanta roba segnatevelo con io solo ovviamente rosetta massi su una ts posso montare un son of mini sul contatto pulito della ts stesso comune e normalmente aperto due fili su s1 s2 del son of mini per la notifica sì 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 marco io che amo anche il mondo dei motori apprezzo tantissimo anche questa nuova playlist grazie peppe massi gracchia un po gracchia un po mi avete appena detto che era a posto se non capiscono la direzione del canale pazienza altrimenti metti un 2 l'r3 per alzare abbassare i finestrini sì sì tra l'altro già qualche problema con i finestrini quindi sarà una delle prime cose da sistemare micchi massi come stai come stanno andando il negozio al negozio ormai vive di vita propria è quello che sto calcolando meno in questo periodo sto abbastanza bene grazie a parte un occhio che mi dà fastidio perché oggi ho demolito un piatto doccia mi è partita una scheggia mi dà un po c'è un po vedete di incastro però si apre se lo uso ci vedo quindi non è non è malissimo rosetta grazie figurati modello macchina modello macchina adesso esce il video dedicato alla macchina o ho tardato qualche giorno a farlo perché volevo far che quale qualche ripresa con i drone col drone col piccolo magari e non ho ancora avuto tempo di farla il video è finito però volevo fare un po più qualcosa di un po più carino visto che non lo faccio mai non che io sia bravo a farlo però volevo un attimo decorare il video in maniera più effetto cinema dai manca il video dell'auto si arriva arriva fai anche ristrutturazione i bagni il mio il mio perché ho dovuto cambiare piatto doccia e box doccia quindi ho dovuto demolire il vecchio incollare il nuovo piatto doccia no non è il mio lavoro non lo faccio per gli altri non c'ho neanche voglia di farlo a casa mia però era da fare allora io ho già un po la gola secca a faremo una prova di uno smart cioè me l'hanno mandato non è male faremo anche il video di uno smart watch perché un modello raggede della vorre io non è che provo sta roba però siccome era molto raggede e siccome combinazione il mio mi stava abbandonando ho detto ma si prendiamolo anche se una cinesata però non è malissimo anche perché non costa pochissimo ma per parlare con te al telefono come posso fare luciano silvagni ma non mi sembra tu mi abbia mai telefonato forse non dal nome non ti ho in pubblica credo per parlare con te al telefono come posso fare allora se mi devi chiamare per sapere magari di roba che vendo eccetera mi puoi chiamare pomeriggio di negozio sono lì se mi devi chiamare perché bisogno di consulenze robe domotiche eccetera che hai bisogno di aiuto mi dovresti prima mandare un email all'assistenza quando ti risponderò perché all'assistenza rispondo anche con una barra due settimane di ritardo perché ne ho tante se non si riesce a risolvere la cosa per email sull'assistenza prendo anche appuntamento per fare consulenze telefoniche se hai bisogno d'aiuto se hai bisogno di eventuali prodotti da acquistare eccetera invece mi puoi chiamare il negozio perché faccio questa distinzione perché se mi chiamano per lavoro ok se mi chiamano per aiuti passerei la giornata al telefono senza fatturare un euro purtroppo purtroppo funziona così ciao massi giacomo ciao io volevo mettere il pannello solare flessibile sul mio id buzz tu come impianto completo di batteria accumulo cosa mi consigli grazie a seguo sempre i tuoi video grazie a te ma allora l'id buzz che sarebbe il mio sogno è molta invidia non lo nascondo ti dico me lo potessi permettere l'avrei già comprato secondo me merita un bel impianto adesso però bisogna vedere tu cosa ci devi fare se ci devi alimentare una se ci devi caricare una batteria per alimentare un inverter se devi mettere una pole station di che potenze parliamo insomma capire un attimino tutto quanto perché il pannello flessibile fai proprio poco è disegnerebbe valutare un attimo luciano ok grazie ovviamente anche pagando fatto l'artigiano per anni so cosa vuol dire grazie però ti dico se l'hai fatto per anni l'hai fatto negli anni buoni perché farlo adesso è veramente una roba senza senso no ma non è in questione si pagando le consulenze si le faccio a pagamento però se ti posso dare una mano così senza troppo impegno per email io lo faccio gratuitamente da quando ho aperto il canale continuo a farlo finché non diventa una cosa a cui mi ci devo dedicare lavorarci capito comunque scrivimi all'assistenza poi se non troviamo la quadra ci sentiamo ragazzi io sete bella fresca salute questa sera una bex che va benissimo anche se leggera però è bella fresca piccola e me l'hanno regalate quindi è da bere salute mi eviti di cercare lady buzz che sono dal cellulare scusate l'ignoranza non so cos'è e il furgone elettrico della volkswagen costa una fucilata una roba una roba non mi ricordo se costa 60 mila euro non mi ricordo costa una costa un voto quindi non ce l'avrò mai ti ho scritto per mail aspetto la tua risposta quando hai tempo grazie sì probabilmente non ancora letta porta pazienza cimbex mia preferita sì alla fine tra tutte quelle leggere commerciali ok va giù come l'acqua e va bene giorgio ciao sono un ragazzino che far fai da te bravo questi sono i ragazzini che mi piacciono michi massi per caso hai qualche aggiornamento sull'impianto fotovoltaico del tetto no già naro poco lecchia cia scusa genaro coppo lecchia ciao roberto io ho un coroncino per stasera salute un coroncino va bene va bene va sempre bene va sempre bene salute cosa ho fatto di bello in questi giorni allora gli e ieri ieri era giovedì mercoledì si ieri e oggi sono impazzito in un impianto elettrico di un negozio che ho dovuto modificare per una nuova apertura un negozio vecchissimo degli anni dell'anno zero credo un disastro un disastro vi dico solo che quando sono andato via dal negozio ieri sera c'era un problema su una linea luci peccato che scattava il differenziale della casa a fianco pensate un po che casino per chi capisce sa già che oggi non ha passato una bella giornata comunque alla fine ho risolto per forza di cose ma si la fossi bot f800 allora la fossi bot f800 è finita potrebbe essere uno dei primi video che esce perché leggero e farò sicuramente la comparazione tra fossi bot f800 bluetti e b3a e la poverestation piccola la all power che avevo provato poco tempo fa che ho ancora faremo un versus giusto per capire per dare un'indicazione perché lo faccio di quelle tre perché sono le uniche tre piccole di quel taglio che ho anche se la fossi bot vince già mani basse perché ha più accumulo di tutti ma non è detto che duri più di tutte hotel tre non è hotel com'è che si chiama hotel detta che te lo dico aspetta che te lo dico che ce l'ho qua ce l'ho qua ce l'ho qua questa notizia bomba notizia bomba ma dove caccia è qua allora la oscal bp 3006 che mi avete chiesto l'ho presa sia quella che la batteria di la batteria supplementare da altri 3600 wattora quindi avremo un bel video con una power station con 7,2 kilowattora di accumulo presa è in viaggio gennaro sei il top ma la linea luci disperdeva la linea luci era incrociata tra un negozio e un'altra casa che una volta erano la stessa struttura che poi sono state divise le linee ma mica tanto quindi un casino no non è la dispersione c'era proprio un miscuglio totale come risolto massi semplice il problema ce l'avevo sulla linea luci del negozio che era sotto e a fianco l'abitazione che una volta erano insieme lì c'era qualche casino introvabile non potevo mettermi a distruggere a sezionare tutta la struttura come risolto ho fatto tutta la linea luci nuova di tutto il negozio isolata e bom quindi saluta la linea luci già che parlavamo di questa oscal parliamo di un prodotto che costa poco perché la power station costa 1389 euro e parliamo di una stazione di una power station con un'uscita da 3600 watt e con 3600 watt ora di accumulo quindi già una bella bestiolina più l'espansione vediamo un po come va proviamo soprattutto fotovoltaico la gestione delle ricariche vediamo rosetta grande massi grande rosetta grande rosetta e poi bom cos'altro che altra news vi posso dare sto facendo ho finito il video anche di mi ricordate che avevo fatto un video di come aggiungere una batteria live po 4 esterna ad una power station che magari non è spandibile o che è spandibile ma spendendo meno ho fatto un altro video simile sulla falsariga però questa volta con una batteria da 24 volte sempre live po 4 perché cambiano un po le potenze di ricarica e tutto anche quello lo facciamo uscire giochino buonasera massimo buonasera a te luca ciccone della oscar non si capisce quanto fotovoltaico si può mettere infatti lo proviamo definitivamente insieme e vediamo any good ciao e bosco giuseppe ciao perché arriva adesso io mi sto scolando una bella bex fresca finché lo è perché diventa subito calda quindi approfittiamole cosa stavo leggendo della oscar non si capisce quanto l'entra il fotovoltaico e questo è vero in realtà non si capisce niente perché non ha una scheda tecnica non è un po un casino quindi meritava una recensione con un po di dati vero perché effettivamente non si capisce niente o almeno di quello che interessa non si capisce niente mi sto di nuovo riguardando tutta la cosa porta 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 ingresso adattato ingresso solare no dai c'è scritto 1600 watt non si capisce bene divisi come come lavorano però 1600 watt giuseppe prestigiacomo ciao michi morel mi dispiace massi ti devo lasciare che devo studiare per domani e mi sembra giusto buono studio la macchina è un'officina grigia del giapponese Roberto massi la power station in tema di illuminazione è preferibile quindi più conveniente la 12 volt assolutamente sto facendo anche il video ce l'ho già fatto è solo da montare dell'illuminazione che ho fatto in un'officina che tutta 12 volt è chiaro che molto è molto più conveniente perché alimentiamo direttamente a 12 prendendo dalla batteria che verosimilmente potrebbe essere tipo a 48 quindi non dobbiamo avere il consumo dell'inverter che alza la tensione dai 48 volt o quello che è del pacco batteria fino ai 230 in alternata quindi togliamo il consumo dell'inverter abbiamo solo la parte elettronica del regolatore che abbassa la tensione del pacco batteria facendola uscire a 12 quindi tutto un altro tipo di efficienza è il massimo che si può fare per sfruttare ad esempio una piccola power station per l'illuminazione esattamente come ho fatto io poi vi do delle anteprime bluetti sì vediamo sì allora per chi lo conosce mi è arrivato il d40 ok quindi questo appena ho un minuto per andare a prendere il camper lo proviamo poi cos'altro abbiamo di nuovo ok abbiamo una batteria redodo che è una batteria fatta apposta per l'inverno adesso non è il periodo ideale per provarla ma lo faremo e poi mi è arrivata un'altra power station appena uscita che la c 240 lorenzo monzo ciao vorrei capirci qualcosa di fotovoltaico potresti consigliarmi qualcosa per imparare dovrei partire da zero beh ti fai una cultura generale con le migliaia di video che ci sono di su youtube non solo i miei ti fai una cultura generale ti metti lì per di un po di ore così inizia a schiaretti l'idea su che quante mila versioni di impianti configurazioni si possono fare bisogna capire se vuoi fare una cosa fai da te sicuramente parliamo di un impianto a isola o un qualcosa di piccolo per alimentare qualche piccolo carico per partire quello luigi interessa il video illuminazione 12 volta led sì sì arriva ma si sarà un successone la recensione della oscar sarà il primo recensiva in italia a sì ma non lo sapevo figurati grazie a voi solo perché non costava tantissimo se no non ce l'avrei fatta a prendere dimitri buonasera lorenzo grazie mille figurati luca quanti pannelli fotovoltaici hai messo in officina 11 solo ne ho messo uno montato completamente in verticale sopra una finestra perché non me li facevano mettere da altre parti tra l'altro orientato malissimo ea ovest completamente ovest in verticale allora inizia a prendere sole all'una e mezza le due più o meno però mi basta perché comunque dei consumi bassissimi allora c'è l'antifurto che assorbe sul 12 volt un watt barra due proprio pochissimo e sta lì e poi c'è quando uso le luci o quando uso il 230 volt ma chiaramente con parsimonia e non è che sto lì e tengo tutto acceso per niente ho fatto tutte le luci comandabili singolarmente per fare un po di economia sono sono abbastanza indipendente anche prima che arrivasse il bel sole di adesso perché comunque quel pannello anche quando carica 20 30 40 watt per quelle due o tre ore al giorno che carica e magari non vado neanche tutti i giorni io per adesso quando arrivo sempre la pole station carica e bisogna bisogna riorganizzarsi accontentarsi e gestirsi ma perché hai preso un'officina perché den allora intanto perché non sapevo più dove mettere alcune cose tra cui un rimorchio un sacco di roba che non sapevo più dove mettere come magazzino e è una macchina perché io sono un garage con un posto auto che ci metto il furgone e ho anche da mettere una macchina che non può stare fuori e che tra l'altro devo restaurare fare un sacco di lavori quindi ho unito questa esigenza a quello che è la mia passione per farne intanto uno svago per me sono sincero quella è una mia passione io mi diverto a fare i lavori sulle macchine eccetera quindi è un ottimo antistress nel mentre che faccio nel mentre già che ci sono faccio anche dei video li porto sul canale a qualcuno faranno piacere a qualcuno no però un attimo di leggerezza tra tutti i video tecnici elettrici eccetera ci sta ma non è un'officina io la chiamo officina ma è un garage magazzino poi è diventato la mia piccola officina si l'ho allestita come officina mi piace così alberto lavazza buonasera a te rosetta bellissima officina grazie power station c'è in officina allora adesso ho provvisoriamente una piccolissima all power da 600 watt che avevo provato tantissimo tempo fa che quella che uso da muletto c'erlo sempre il furgone e e bom probabilmente non probabilmente in officina metterò la bluetti ac 240 l'ultima che uscita cioè deve ancora uscire probabilmente metterò quella luigi bella risposta io avrei risposto come un vecchio detto spot di razze del can credo un amaro sono fatti miei quella era vero mamma mia era un proprio un vecchio spot sono fatti miei diceva così me lo ricordo vagamente non ho idea di che anni sia il pannello di quanti watt è 375 era uno di quelli che aveva un giardino allora io giardino avevo tre pannelli da 400 adesso i trina poi avevo tre pannelli da 375 i soliti quelli del video che tra l'altro sono una bomba finché vanno adesso uno l'ho messo in officina da 375 sul sul tetto di casa ho buttato i due da 375 rimasti 3 da 400 più altri 12 ntype 5 da 420 tutto quello che avevo l'ho buttato su e arriverà un video anche di quello a ecco io avevo fatto il video di quello per farvi lo spiegone degli ottimizzatori taigo come funzionano come si configurano tutto video finito peccato che proprio quando io mi sono messo a fare il video taigo ha deciso di aggiornare i sistemi cloud e tutto quindi è tipo una settimana che abbiamo tutto inchiodato non funziona niente quindi non riesco a fare il pezzo del video dove faccio vedere il controllo in app pazzesco proprio pazzesco giacomo stavo pensando se con una batteria da 100 am per ora potevo eventualmente alimentare un piccolo frigorifero è una piasta induzione perché la mia intenzione è quella di camperizzarlo aspetta è giacomo pagani giacomo pagani giacomo pagani era all'inizio ali di buzz quindi una batteria allora con 100 am per ora un figo e una piastra induzione ci fai proprio poco proprio poco se lo vuoi camperizzare bisogna studiare una cosa un po più un po più seria any good c'è il modo di far accendere autonomamente in modo random un sono femmini no completamente a random a muzzo no luigi sono solo fatti miei grande masse sì sì allora me la sono ricordata giusta francesco buonasera francesco francesco ragazzi è l'amministratore del gruppo bluetti italia forse una domanda che ti hanno già fatto ma mi hanno incuriosito tutte quelle coppe che esponono in officina da dove arrivano sei stato un pilota sì sì tanti mi hanno scritto e mi dicevano ma non sapevo che di un pilota mai stato pilota quelle erano coppe che vincevo quando modificavo le auto io modificavo le auto si facevano dei concorsi che potevano essere la maggior parte erano di estetica quindi parliamo di modifiche estetiche e bom poi alcune di quelle coppe sono coppe che ho vinto invece quando facevo gare di impianti audio sempre in auto e sì diciamo il 95 per cento sono coppe di estetica io preparavo esteticamente le auto estetica anche in parte di meccanica sì però gli anni che facevo che vincevo le coppe erano gare di estetica quindi sì una volta c'erano almeno dovrebbe esserci ancora delle manifestazioni anche molto grosse di auto modificate sì tamarrate se vogliamo ma io non ero tamarro io ero elegante vabbè se metti un altro pannello in officina con due chilote sei a posto anche in inverno no in officina ho messo un pannello da 375 watt se metto un altro non fa due chilote comunque sarò a posto anche in inverno perché anche se non mi carica il pannello abbastanza non importa perché tanto io comunque arrivo sempre col furgone in officina e senza problemi mi attacco i i due chilowatt di accumulo che ho sul furgone e la power station la carico lo stesso il problema non c'è audio film ti hanno tolto il mese del messaggio any good condivillo a tutto il mondo si e new world grazie mille perché peccato grazie mille figurati peppe touring si quello audio film ac 240 in officina ai uragani e tempeste di sabbia no ma siccome dove c'è la proprio stessa non ci lavoro ci taglio col flessibile faccio polvere quale non meglio di quella difficilmente gli arriverà l'acqua però sta lì luigi a più che le coppe ha colpito la ragazza a fianco di massi giovane ricco sì allora quella foto non mi ricordavo neanche di averla quando mio papà mi ha portato gli scatoloni delle coppe in officina che lui aveva a casa da uno scatolone è saltata fuori quella foto che non avete visto bene o forse non si vede ma nella foto ci sono io con la ragazza sì che comunque trovando la foto mi sono chiesto chissà che fine ha fatto quella lì chissà andarla a trovare adesso beh a parte che adesso avrà tipo 50 anni quindi non sarà più così comunque nella foto sopra se avete fatto caso ma magari non si vedeva dentro sotto il vetro avevo conservato la muta ok la pelle che cambiava il mio animaletto che avevo a quei tempi animaletto che era un iguana di un metro e mezzo avevo ottenuto una una delle mute e l'avevo lasciata in quella cornice e c'è ancora quindi quando ho tirato fuori quella cornice con quella foto mi sono venuto in un sacco di ricordi di quegli anni ho visto come ero e come sono e tempo passa e poi ho avuto ricordo del mio piccolo iguana che si chiamava aldo aldo si chiamava che ovviamente non c'è più da tantissimo tempo vabbè alice buonasera o abbiamo un'altra rappresentante del gentil sesso buonasera buona idea luigi e si giorgio la mia prof ci ha dato a me e al mio amico un modellino e ovviamente lo fa ho fatto l'impianto elettrico va bene però se la tua prof legge che è scritto ci ha dato senza sacca secondo me ti dà anche una bella badilata hai fatto l'impianto elettrico bravo ci sta ci sta magari spiegaci cosa hai fatto tiziano i cavi del fotovoltaico sul tetto è meglio coprirli con un corrugato canalina o lasciarli scoperti sempre meglio coprirli è sempre meglio intubarli ed è sempre meglio non lasciarli proprio a vista ma magari farli viaggiare intubati sotto le tegono insomma vedere cosa riesce a fare sono cavi fatti per stare all'esterno sì però se li copriamo intanto è un lavoro fatto meglio rimane meglio anche esteticamente e comunque gli dai una protezione max maxi è possibile impostare un sono mini come lampeggiatore per una lampadina no neanche quello stasera abbiamo tutte le domande strane sui comportamenti di sonoff no non fa neanche quello no anche perché fare un una sorta di lampeggiatore guerrerè durerebbe pochissimo non è una gestione elettronica sarebbe proprio una gestione meccanica di un relè elettromeccanico andremo a ridurre la sua vita drasticamente arcangelo buonasera una domanda qua diventa calda ce n'è ancora un po è da un alimentatore atx vecchio se metto un convertitore di tensione in entrata 12 posso far uscire una tensione di 36 o anche di più se sì perché tra l'altro i vecchi alimentatori atx sul 12 hanno parecchia corrente sì quindi gli puoi mettere un convertitore di sì e portare a 36 sì 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 lo puoi fare chiaramente magari se vuoi fare una cosa super figa puoi gestire la ventola di raffreddamento dell'alimentatore insieme al raffreddamento magari tirarla fuori e fare una gestione unica del raffreddamento del convertitore perché sicuramente devi raffreddarlo sì non ci ho mai pensato è una buona idea io una volta con gli alimentatori dei con gli alimentatori dei pc facevo un sacco di cose a 12 perché tiravano parecchio sì sì buona idea ho appena aggiornato il software massimiliano delle b3a anche io oggi però non ho notato questo 135 boh allora le cose sono due o stava leggendo male il 100 in realtà ero in 35 o viceversa quindi io gli farei un paio di cicli di assestamento per capire giorgio scusa dato di ma figurati è solo perché magari dato professoressa legge luigi massimiliano hai fatto una carica completa il soc si risetta al 100 facendo carica completa a tu parlavi con lui sì esatto quello che io ho detto io giorgio te sei del dell'acquario è quella la domanda arcangelo che grazie mille si certo arcangelo mi serve un alimentatore fai da te per piccoli lavoretti sì sì da muri scusa sì sì ci sta ci sta di ripeto io con i vecchi alimentatori tx facevo un sacco di cose ma quelli proprio vecchi quelli che avevano ancora l'interruttore di accensione sul cavo non so se ne avete mai visti quelli erano comodissimi perché tenevi la spina attaccata li accendevi li spegnevi con l'interruttore credo fossero gli alimentatori che si usavano negli anni dei dei 286 credo di quei computer lì perché poi dal 386 in poi mi pare avessero l'accensione lo spegnimento via piastra madre sì penso che erano gli anni dei 286 quegli anni facevo gli olivetti m300 è non mi fate tornare tanto indietro che poi mi ricordo quanto sono vecchio massimiliano messa sotto carica è stata caricata questa mattina e ma come detto fai un ciclo antonio buonasera giorgio non ti è piaciuto l'acquario tiziano grazie il tetto in lamiera su una baita in montagna ok il corrugato o la canalina pro proteggerebbero anche da eventuali auditori certo esatto sì 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 assolutamente sì luca ciccone bm ps2 anche sì sì erano quegli anni lì proteggerebbero sì 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 c'era arrivato sono abbastanza bravo a leggere le parole sbagliate ormai sono abituato va bene quasi finita alessio ciao va bene quindi ok marco io con un alimentatore da pc ho costruito un alimentatore da banco con tutte le alimentazioni sì ottimo ottimo sì io a quei tempi lavoravo in una ditta di elettronica ci facevamo un sacco di cose ecco quella è una cosa che mi manca perché lì avevo la possibilità di costruire un sacco di cose che adesso mi sarebbero servite perché lì avevo un sacco di materiale componenti potevo fare quello che volevo veramente e non esiste più ma non hai svelato ancora che auto hai preso no perché non sono ancora riuscito a fare il video che volevo fare due riprese col drone ricardo ha beccato il video del sollevatore prima di tutti hai scoperto perché no purtroppo a volte metto i video ma non sono pubblici ma li classifico come video non in linea si chiama non in linea sì o non visibile adesso non mi ricordo lo faccio talmente tante volte che non leggo neanche cosa c'è scritto forse non visibile non pubblico adesso non mi ricordo comunque state il fatto che alcune volte i video non pubblici qualcuno di voi li vede lo stesso e non riesco non riesco proprio a capire perché ma non è successo solo a te ricardo era già successo a qualcun altro ma giorgio per una ciabatta a 12 posti mi consigli di usare tipo spina mi posso un industriale allora io già non sono un fan delle ciabatte quando mi dici 12 posti ho delle difficoltà verrà giuro perché sono le ciabatte un attimo a fare danni bisogna fare attenzione allora 12 posti se sono 12 caricabatterie per cellulare ok ma 12 posti possono diventare che da quella ciabatta passano 7 kilowatt non non lo so comunque vai almeno almeno di sciuco da 16 ampere ma proprio almeno ma un asciuco di qualità con un bel cavo da due e mezzo ma almeno perché puoi mettere la spina industriale da 16 ampere e caricare un cavo da due e mezzo soprattutto i dodici posti della ciabatta che magari hanno delle lamelle che non sono un gran che ma comunque 12 sono tantissimi non lo so sono un po così alberto attenderemo si arriva per me hai preso una toyota supra ah sì ho capito non lo faccio è sì meglio molto meglio l'ultima angolata andata e comunque è questa sera mi avete parlato lì della pubblicità di sono fatti miei porca miseria un sacco di ricordi sì un sacco di ricordi va bene allora fatemi archiviare solo un paio di mail che poi mi dimentico allora vi faccio vi racconto che oggi mi è arrivata un email da sonoff che mi dice che dallo scorso alto dallo scorso anno sono stati inondati di richieste per trovare una soluzione di controllo intelligente per le caldaglie sia tramite l'integrazione open term che tramite contatto pulito stiamo attualmente esplorando lo sviluppo di un prodotto del genere per espandere la nostra gamma di prodotti e garantire la compatibilità con un'ampia gamba di sistemi di caldaglie abbiamo bisogno del tuo contributo per questo processo e quindi vogliono un confronto per per trovare un nuovo prodotto e finalmente direi è una birra è andata sì ma è anche l'ultima io non sono non reggo così tanto a una seconda birretta come questa potrei iniziare a fare un sacco di spoiler poi cos'altro vi devo segnalare di interessantissimo sto provando un sacco di roba ragazzi perdo sempre più il controllo adesso sto facendo anche il video di una di una wallbox intelligente e tra l'altro mi sono dovuto installare uno shelly perché gestisce solo quelli poi sto devo fare il video di un'applicazione che serve per monitorare gli impianti fotovoltaici e gestire automazioni con dispositivi esterni una cosa carina che però richiede del tempo che ancora non ho provato del tutto insomma un casino sono andati anche tre quarti d'ora in piacevole compagnia cosa uno shelly ho dovuto installare uno shelly pm si chiama em come si chiama fammi vedere non li conosco bene non vorrei dire un nome per un altro uno shelly dovrebbe essere pm aspetta uno shelly ho dovuto installare uno shelly em quello con due ingressi per le pinze per perché perché dialoga tramite la rete wifi con la wallbox per ottimizzare l'assorbimento carino la oscar sarà intelligente la oscar ha un'applicazione poiché sia intelligente non lo so vediamo quello che misura i consumi esatto conosci solar age sì 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 non non avrò mai un impianto solare da casa mia perché mi costano troppo però sì ma io praticamente ho iniziato a fare i fotovoltaici con solare i primi impianti che ho fatto erano tutti solare sia normali che ibridi che con il modulo di ricarica a parte con le batterie lg con le batterie solare gli ho fatti in diverse configurazioni li ho fatti addirittura con le vecchie batterie lg da 10 kilowatt che è stata una cosa è la peggior che poi funziona ancora era anche bella però la più pesante batteria che ho abbia mai montato anche perché era appesa tipo a un metro da terra disastro un casino quel giorno non mi ricordo come abbiamo fatto a metterla su e comunque ancora lì non è caduta quella era bella era nera c'aveva lo sportello laterale bella poi ho iniziato a montare i solar age con le loro batterie che sono bruttissime e che occupano il doppio dello spazio che potrebbero occupare e questa cosa non l'ho mai digerita e che per tirarle su per appendere al muro ti devi comprare il kit delle maniglie perché non te lo danno insieme e senza maniglie quella batteria non la alzi neanche a morire disastro però solo regge tanta roba tanta roba che giovanni francavilla ti hanno eliminato il messaggio giorgio hai venduto la borsa della beta no ce l'ho buttata in negozio quasi quasi qualche giorno faccio un video concorso e la regalo a qualcuno non la uso più non la non saprei dove usarla da quanti anni fa l'elettricista è un po difficile rispondere perché io nasco più come elettronico poi ho iniziato a fare l'elettricista ma a livello di tra virgolette bassa tensione quindi telecamera antifurti quelle cose lì ho fatto per anni in realtà sono diventato un vero elettricista dopo ma io ho lavorato un sacco di tempo più nell'elettronica applicata che proprio a livello di elettricità pura ho fatto poi l'elettricista dipendente ho iniziato a fare l'elettricista dipendente nel 2000 2008 2008 sì forse sì come dipendente poi poi dopo per qualche anno non ho più fatto l'elettricista come dipendente ovviamente perché mi sono di nuovo messo a lavorare nell'elettronica ma facevo anche l'elettricista finché poi non mi sono messo il proprio comunque che bazzico con sta roba con l'elettricità l'elettronica e tutto da sempre quindi da da 25 anni se vogliamo è un po il mio curriculum è un po è un po ampio ecco non è molto limitato solo l'elettricista anche perché se fossi stato solo un elettricista molto probabilmente non farei tutte le cose che faccio oggi perché non non le saprei non mi non mi appassionerebbero no io ho avuto anche ho lavorato molto nell'informatica insomma tante cose che mi hanno aiutato ad essere predisposto oggi per tutte queste nuove tecnologie perché oggi non puoi fare l'elettricista senza sapere usare bene uno smartphone un computer eccetera diventi limitato quindi va bene così francesco bilano hyper mile challenge venerdì 19 sabato 20 nel pieno della design week milanese il 19 aprile si terrà la prima minano hyper mile challenge organizzata da tesla hauners italia sì c'è questo grosso evento organizzato da tesla sulla mobilità elettrica chi è in zona secondo me merita come mai noi noi sentiamo per gli scelli per capire io tutto sono off perché ho cominciato con i tuoi video guardate adesso che mi sono messo a dover mettere questo scelli per provare questo prodotto sono sempre più convinto che ho fatto bene a scegliere sono off perché per quanto sia magari a volte problematica o anche limitata all'applicazione dei sono off l'applicazione dei scelli è veramente terribile non mi è mai piaciuta per quello non li avevo scelti ma secondo me è peggiorata cioè ragazzi io ci ho messo mezz'ora ad accoppiare sto scelli nell'app non c'era verso tribulato come pochi e non so neanche ancora come ho fatto se sono sincero alla fine è andato terribile utilizzeranno apparati bluetti per far funzionare i loro sistemi magari a qualcuno interessa esatto se siete in zona merita alessio allora avevi il cb no io non ce l'avevo però sì ne avevo anche installati adesso ricordarmi tutto penso che almeno un paio le avevo installati sì 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 perché andavano tanto e mi ricordo che c'è io in quegli anni facevo tanti lavori di autoradio eccetera mi ricordo che me ne avevano fatto installare un paio adesso ricordo poi magari poteva essere uno come quattro non lo so però mi ricordo che ho installato dei cb che mi avevano chiesto sì dimitri a proposito di solare oggi mi ha chiamato l'installatore con il preventivo di massima con solare mi dice che la batteria va messa solo al piano terra sì perché non te la porterà mai più sulle scale fondamentalmente per quello perché poi comunque va tassellata a parete se la batteria solare quindi che sia poi tra l'altro e batteria solare ci sono tra le poche se non l'unica che anche sul mercato italiano arrivano con le normative americane quindi praticamente almeno che ho visto io è l'unica batteria col sistema di estinzione in caso di incendio integrato che poi in italia non si usa non si abilita e non si collega però ce l'hanno a bordo secondo me ti ha detto che va messa solo piano terra per non portarla su perché arriva sul bancale piatta poi devi tirarla su in piedi abitare quattro maniglioni essere almeno in due tirarla su e appenderla sulla sua staffa quindi secondo me solo per quello almeno non ho memoria di qualche vincolo tecnico che dica di metterla piano terra peppe o massima ti ricordi quando ti ho fatto parlare con il mio elettrico per montare sono off tx sì vagamente sì francesco cominci io facevo le modifiche playstation male facevo anch'io se si porca io facevo le modifiche playstation poi ora si può dire in quegli anni lì non erano in tanti ad avere i programmatori delle memorie eccetera e io facevo le le smart card per per tele più già compravo le schede con lo zoccolo programmavo i adesso non mi ricordo il nome dell'integrato comunque programmavo l'integrato per guardare tele più e tipo ogni settimana mi ridavano il l'integrato da riprogrammare mi ricordo che mi mandavano i file da scrivere non mi ricordo neanche come mi mandavano credo ci allora c'era già internet e c'erano le connessioni 56k credo se non ricordo male però non ricordo bene come mi mandavano i file da scrivere pazzesco che robe che mi fate ricordare le mosche facevo non saltavano mai antonio faceva quelli di sky ecco vedi i pic 16 f 84 porca miseria i pic eh già erano 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 i 16 pin erano 16 pin mi sembra sì i pic vero ma sai che ne avrò ancora in giro forse mamma mia che tempi i miei a allora alessio qua magari qualcuno non sta più seguendo di cosa sta stiamo parlando comunque erano gli integrati quelli coi piedini erano otto per lato che io montavo nel programmatore con lo zoccolo con la leva gli scrivevo tutto sopra poi li incastravi sullo zoccolo della scheda quindi c'era una scheda con lo zoccolo saldato la piantavi nel decoder e guardavi le robe mamma mia torniamo in tema alessio i miei hanno sole e questo mese l'app dice che ha fatto 304 kilowatt 10 al giorno circa beh sì ci sta sono tantissimi poi dipende da che impianto va francesco poi cambiavano i codici e mi suonavano la domenica al camponello sì ma infatti mi ricordo che le ho fatto veramente per poco tempo perché poi sto cagamento di cap sto rompimento di scatole non lo sopportavo quindi avevo interrotto molto presto dimitri infatti è per il peso è alta 1 e 20 ah ecco per il peso sì 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 lo so è terribile la batteria da muovere chiamata in arrivo al 117 antonio caricavo le pro oggi in cantiere si in negozio anche ero nel cantiere del cantiere perché ero in un cantiere di un negozio in una via del centro storico completamente massacrata inagibile perché la stanno rifacendo quindi disastro disastro maxi 16 pensi picche erano 16 programmabile picche la e prom sulla scheda se se non ricordo male c'era solo il pic o c'erano anche le prom me lo ricordo sai quante prom ho fatto io in vita mia perché le facevamo per lavoro perché io le prom le usavo tanto perché cambiavano le versioni da caricare sulle pcb sulle mainboard che gestivano il dispensatore delle banconote dei bancomat perché io in quegli anni facevo quello quindi in base alle versioni che dovevi caricare su questa scheda ma sai quante e promo cancellato e programmato in vita mia ma proprio ma non lo so quante sì voi non ma c'è gente che non sa ovviamente di cosa stiamo parlando ma calcolate che una volta c'erano le prom che erano un componente con un vetrino in mezzo erano riscrivibili quindi bisognava togliere l'etichetta che c'era sempre sul vetrino pulirle bene con l'alcol vedere che il vetrino non fosse integrato si mettevano nel cancellatore che era una lampada uv con un cassettino che usciva fuori quindi appoggiavi tutte le prom sul tappetino in neoprene chiudevi adesso non mi ricordo quanto dovevano stare comunque facevo le 64 credo in mezz'ora adesso non mi ricordo questo dato non me lo ricordo allora poi le mettevi nel programmatore gli scrivevi sopra che poi tante le buttavo poi mi ricordo che c'erano le amd in base alla marca alcune riuscivi a riscrivere alcune no adesso non ho i ricordi ben giusti non mi ricordo proprio tutto memoria però sì mamma mia che roba tutto indos sì c'era il programma che girava indos e già rosetta da corso io ricordo tutto bevato te alessio si scaricavano da un sito punto de du ora non ricordo no io non le scaricavo io c'avevo il giro dei fornitori che ce le mandavano appena uscivano perché possibilmente la prassi era che mi mandavano i file da scrivere e io dovevo avvisare i clienti di portarmi le schede non il contrario che mi venivano a suonare di domenica no e mi ricordo che tanto succedeva sempre precisamente quando iniziava la partita ne ho ricordo che iniziava la partita non funzionava più niente e iniziavano a cercare sì durato molto poco quello invece no la modifica delle console quelle sì quelle anche ne avevo fatte parecchie quelle andavano anzi in tempi non troppo lontani faceva ancora le riparazioni delle playstation 3 anche 4 sì ho fatto anche delle playstation 4 mi sembra perché avevano il problema sei quando scaldavano troppo che bisognava fare il reballing della cpu ma le facevo per un negozio i clienti le portavano il negozio il negozio le dava a me mi ricordo che ne avevo fatte un po ma era una roba antipaticissima non ne ho fatte tante le uv e prom si cancellavano con la lampada attinica ultravvioletti sì sono sincero non l'ho mai chiamata lampada attinica e non lo sapevo io l'ho sempre chiamato il cancellatore poi sostituite dalle e tu e prom cancellabili elettricamente sì esatto quante ne facevo di quelle prom lì col vetrino bei tempi ecco quei tempi si e quelli erano i tempi che modificavo le auto è speso una valanga di soldi non lo nascondo va bene grazie a chi mi ha fatto riesumare un sacco di ricordi le ricordo anch'io buonasera ciao sabio quindi abbiamo fatto un salto nel passato molto bene mi fa piacere che chi mi segue spesso ha più o meno il mio stesso passato bello bello no ma infatti ragazzi dobbiamo fare un raduno un qualcosa centro l'italia un weekend una cena dobbiamo organizzare qualcosa perché dobbiamo parlare di tutte queste cose a tavola ma una serata non basterà come si fa a parlare di tutte queste cose conoscersi però sarebbe bello organizzarlo no ma l'organizzare prometto lo facciamo va bene andiamo a dormire che abbiamo fatto un'ora passata e avdebolata e di che quando parliamo il tempo vola vado a dormire ci vediamo nei prossimi giorni prima di venerdì esce sicuramente qualcosa vi faccio vedere la macchina dai ve la faccio vedere anche se non riesco a finire bene il video come vorrei la tiro fuori buonanotte ragazzi grazie a tutti alla prossima